altro che andrea giambruno il vero amore di giorgia meloni è un altro lo dimostra la dolce dedica che gli ha rivolto giorgia meloni è l'attuale presidente del consiglio dei ministri della repubblica italiana e quindi una donna molto conosciuta in italia è dal 2022 che è capo del governo italiano la sua scesa però è stata una vera rivoluzione giorgia meloni salendo al governo è diventata la prima donna a capo del governo della storia d'italia anche per questo è una donna particolarmente seguita e amata nonostante non tutti abbiano delle idee che sono congrue alle sue nonostante ciò però anche per essere la prima donna della storia italiana a capo del governo è impossible non avere stima per lei e apprezzarla è davvero una grandonna oltre che una dolcissima mamma altro che andrea giambruno è proprio lei il suo amore la fine della coppia dopo anni di relazione per anni giorgia meloni e andrea giambruno sono stati insieme i due sono stati anche moglie e marito e insieme hanno dato alla luce ginevra la loro amata figlia purtroppo però le cose non sono andate bene tra i due dopo anni di unione giorgia meloni e andrea giambruno si sono separati a ottobre del 2023 giorgia meloni attraverso un post instagram ha infatti annunciato la fine delle nozze ringraziando l'ormai ex marito per gli anni trascorsi insieme e soprattutto per averla fatta diventare madre di sua figlia la tenera dedica alla figlia ginevra proprio la figlia di giorgia meloni ginevra sembra essere il suo vero amore lo dimostrano le tenere parole che ha voluto rivolgerle in un post accompagnandole a una foto che la mostra in cina in compagnia della mamma durante un suo viaggio di lavoro ovunque insieme ti amo topolina mia queste sono le dolci parole che la premier ha rivolto alla sua piccola mostrando così un lato molto umano di madre quanta dolcezza c'è nelle sue parole